C'è un nome in questo diario. Tom Orvoloson Riddle. Tom Orvoloson Riddle? Aspettate, conosco questo nome. Perché conosco questo nome? Ma certo, la sera in cui ero in castigo, avevo il compito di lucidare gli argenti nella sala trofei. Lo ricordo bene, perché non facevo che vomitare lumache sul trofeo di Tom Riddle. Per cos'era il trofeo? Aveva vinto un premio 50 anni fa, per servizi speciali resi alla scuola, credo. 50 anni fa? Ne sei sicuro? Sì, perché? Non ricordi quello che ti ha detto Malfoy? La camera dei segreti fu aperta l'ultima volta... 50 anni fa? Questo vuol dire... Che Tom Riddle era qui, a Hogwarts, quando è accaduto. E se avesse scritto quello che ha visto? È possibile che sapesse dove era la camera, come aprirla, perfino che genere di creatura ci vive. In questo caso, chi si cela dietro queste aggressioni non vorrebbe che il diario circolasse. Dico bene? Brillante teorie, Hermione. Però ha un piccolo difetto. Non c'è scritto niente in questo diario.